9 e 10 Magari ha un uomo della puttana 9 e 9 Ma è che non l'ha preso? Sì, ma infatti Sì, ma non l'ho preso Sì, ma non l'ho preso Sì, ma non l'ho preso Però magari Sì, ma non l'ho preso C'è? Si spaventano. Ciao, grazie. Anche a te, grazie. 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 Quattro. Grazie. Grazie. Grazie.